Saraya, l'applicazione per mandarsi messaggi anonimi diventata molto popolare nelle ultime settimane, raccoglie i dati della propria rubrica telefonica e li invia ai server che la fanno funzionare, senza informarne adeguatamente gli utenti. Si stima che Saraya abbia ormai più di 18 milioni di utilizzatori, che l'hanno scaricata sui loro iPhone e smartphone Android, e che quindi abbia potuto raccogliere centinaia di milioni di numeri di telefono e indirizzi e-mail, nella maggior parte dei casi all'insaputa delle persone interessate. Quando viene installata, l'applicazione chiede l'autorizzazione per accedere ai contatti della propria rubrica, ma l'avviso è piuttosto generico e non è chiaro quale sia l'effettivo scopo della raccolta, cosa che pone diversi problemi dal punto di vista della tutela della privachi degli utenti.